Ok ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video che, come avete letto dal titolo, riguarderà una faccenda parecchio strana. Solitamente queste cose succedono in America o comunque all'estero, ma stavolta questa idea grandiosa è tutta italiana. Il che è abbastanza preoccupante, visto che significa che queste idee così assurde che fino a poco tempo fa ci sembravano lontane, sono già arrivate anche qui. Non so perché una notizia di questo tipo sia passata abbastanza inosservata. Qualche giornale ne ha parlato, ma nessuno se ne è interessato più di tanto, ma a mio parere è una cosa completamente fuori dal mondo, che sia stata accettata senza che nessuno abbia detto nulla, mi lascia senza parole. Di queste cose bisognerebbe parlarne molto di più, perché sono convinto che siano seriamente pericolose e che di questo passo diventeranno sempre più gravi. Forse penserete che stia esagerando, ma secondo me questa notizia è semplicemente la punta dell'iceberg di qualcosa di molto più grande, ma nel corso del video vi spiegherò perché la penso così. Allora, una palestra ha deciso di impedire a tutti gli uomini di entrare, rendendola accessibile solamente alle donne. E dirò subito che non capisco perché ne vadano così fieri di questa loro invenzione. Di certo non sono i primi ad aver creato un luogo in cui gli uomini non possano entrare. I centri antiviolenza lo fanno già da anni, eppure sono rimasti umili. Non farò il nome della palestra, sia perché non credo che meriti pubblicità gratuita, ma anche perché non vorrei che qualcuno andasse a lasciare commenti offensivi nei loro social o altro. Cerchiamo di comportarci da persone mature come sempre ed evitiamo queste cose. Ora, sarò sincero, che ci sia una palestra solo per donne mi è abbastanza indifferente. Certo, vedere il cartello vietato l'ingresso agli uomini, magari a fianco di quello che vieta l'ingresso ai cani, potrebbe essere di cattivo gusto, ma alla fine, chi se ne frega, non è questo il vero problema. Il problema sono le motivazioni che vengono date per questa scelta. Di fatto, viene detto che è stato fatto per far sentire le donne al sicuro e per evitare che si sentano giudicate. Ogni donna deve sentirsi libera di essere ciò che si sente, senza che nessuno possa per questo giudicarla. Per questo è nata l'idea di una palestra in rosa, vietata all'ingresso degli uomini. A chi viene e si scrive, dico che il nostro è più un club che una palestra, tutto molto sotto controllo. In queste affermazioni, secondo me, ci sono due cose che sono estremamente sbagliate. La prima è che sembra che solo le donne si sentano giudicate per il loro corpo e che possano essere vittima di body shaming. Non so se chi la pensa così è rimasto indietro di una ventina d'anni, o se semplicemente preferisce far finta di non vedere perché gli fa comodo così. Ma il body shaming è qualcosa che riguarda gli uomini tanto quanto le donne. Lo stesso patriarcato che tanto viene odiato prevede che anche l'uomo rientri in certi standard. Eppure, se venisse proposta una palestra blu invece di una rosa, gli ideatori di questo progetto credo che si metterebbero a ridere. E la seconda cosa che traspare da quel messaggio è che solo gli uomini possono giudicare negativamente i corpi delle donne. Come se il body shaming fosse un problema unidirezionale, praticato esclusivamente dagli uomini. Personalmente, il numero di donne che ho visto parlare male dei corpi di altre donne credo che sia praticamente uguale a quello degli uomini. E tutto questo senza contare il body shaming fatto dalle donne nei confronti degli uomini. Basta aprire un social o guardare qualche TikTok per averne degli esempi. Un po' come lo slut shaming che sarebbe quando una donna viene definita con la parola con la T o con la P, che è sempre stato considerato un comportamento fatto esclusivamente da uomini, ma alcuni studi hanno dimostrato che le donne si comportano nello stesso identico modo. Non appartiene a un solo genere il comportarsi da stronzi, è nella natura umana. Le clienti dai 35 anni in su sono seguite da personale formato, anche in questo caso, solo da donne. E' la prima palestra in rosa d'Italia. Per quanto ne sapevo io, era in legale offrire un posto di lavoro solamente a uno dei due generi, ma a quanto pare hanno fatto un'eccezione per questa buona causa. Se per un progetto solamente maschile avessero formato un team esclusivamente di uomini, sono certo che la reazione sarebbe stata leggermente diversa. Mi immagino già i titoli dei giornali scritti rigorosamente con la E nella posa di Benito e tutti i vari tweet indignati. Fanpage avrebbe già fatto una trentina di video e sicuramente anche Fedez si sarebbe messo in mezzo, anche se non c'entra niente ma ormai lo fa per abitudine. Ma se fatto a ruoli invertiti invece la consideriamo una vittoria sul patriarcato. Ma tutto sommato meglio così, buttare un personal trainer maschio lì in mezzo a tutte quelle Karen sarebbe come buttare un'esca in un mare di piragna. La palestra ha avuto un grande successo e a quanto pare è riuscita a riempire tutti i posti che avevano disponibili. Il che mi sorprende abbastanza perché come piano di marketing fa abbastanza cagare visto che hanno tagliato fuori l'esatta metà dei loro potenziali clienti. Se poi consideriamo che con questa idea hanno escluso anche tutte le persone intelligenti, no dai, scherzo. Ma se devo trovare un lato positivo, credo che sia una buona cosa che si sia riempita così in fretta. Pensate a quanto saranno deluse le clienti che dopo un paio di settimane che frequentano quella palestra, tutte felici per non avere dei maschi bianchi etero intorno, si rendono conto che arrivano degli sguardi giudizievoli anche dalle altre ragazze che in lontananza sentono dei commenti negativi sui loro vestiti o sulla loro forma fisica e si rendono conto che forse il problema non erano solo gli uomini ma saranno comunque troppo orgogliose per ammetterlo e continueranno comunque a far finta di nulla. Non potrei immaginarmi un finale migliore. All'inizio quando uno di voi mi ha mandato l'articolo pensavo che questa palestra fosse stata creata per evitare gli sguardi di apprezzamento diciamo, cosa che rispetto al body shaming avrei già capito un po' di più perché sì, certamente succede anche il contrario, ma è evidente che sia una cosa che riguarda per la maggior parte le donne, anche proprio per questione di numeri di maschi e femmine che ci sono mediamente in una palestra. Ci avrei comunque registrato un video per farci due risate? Assolutamente sì, però almeno avrebbe avuto un briciolo di senso, ecco, l'avrei già capito. Se il motivo fosse davvero il body shaming, allora a questo punto tanto vale fare una palestra solo per le persone in sovrappeso o eccessivamente magre. Comunque, per mia esperienza personale, la palestra è un luogo in cui si tende a non giudicare negativamente qualcuno che magari è fuori forma o che ha appena iniziato perché quasi tutti quelli che ci vanno hanno iniziato perché a un certo punto della loro vita non si trovavano bene con loro stessi. Difficilmente trovi la motivazione ad allenarti per anni se non c'è qualcosa che ti ha fatto sentire insicuro o che non ti piaceva. Quindi insultare qualcuno fuori forma sarebbe come insultare il te stesso del passato. Ho sentito che anche un'altra palestra molto famosa ha deciso di creare una zona all'interno delle loro palestre dedicata esclusivamente alle donne in cui gli uomini non possono entrare. Vengono chiamati Ladies Corner e i motivi sono praticamente gli stessi. Questa credo sia un'idea ancora più stupida dell'altra. Dedicare un angolo alle donne per allenarsi all'interno di una palestra enorme mi sembra una presa in giro ad entrambi. Veramente, quando sento queste cose mi sembra ritrovarmi in un episodio di Black Mirror. Ormai non ci serve nemmeno una nuova stagione perché ci basta guardarci intorno. Al creatore della palestra è stato chiesto se avesse ricevuto delle critiche per la sua iniziativa e la sua risposta è stata che no, non le ha ricevute. Ma invece ha generato molta curiosità perché ha fatto qualcosa di particolare ed esclusivo. Il fatto che sia solo per donne garantisce una privacy e si avvicinano persone che non hanno mai fatto sport e anche le donne con più di 35 anni si avvicinano a questo mondo. Non so se credegli sul fatto che non ha mai ricevuto critiche perché quasi tutti quelli che hanno commentato questa storia l'hanno fatto negativamente ma forse intende di persona visto che c'è parecchia differenza tra i comportamenti della gente su internet e nella vita reale. Ora, credo che questa situazione sia preoccupante perché è il risultato di una propaganda che è stata fatta da alcune influencer che adorano definirsi femministe quando in realtà di femminismo hanno ben poco. L'obiettivo dell'andare contro il sessismo, il patriarcato e tutto quello che volete voi dovrebbe essere la parità e il rendersi conto che alla fine siamo tutti uguali. Non esiste un genere buono e uno cattivo. Quello che dovrebbe essere uomini e donne contro i pregiudizi e il sessismo si è trasformato in una guerra donne contro uomini e tutti i vari brand che stanno assecondando questo modo di pensare sono complici di questo clima che stanno creando. Oggi abbiamo le palestre solo per donne, poi ci saranno le strade vietate agli uomini, magari poi delle scuole e delle università esclusivamente femminili. A questo punto non posso nemmeno giudicarli negativamente quelli che creano queste iniziative perché sono semplicemente furbi. Invece di criticare questi ragionamenti insensati hanno deciso di cavalcare l'onda di questo femminismo delirante per guadagnarci il più possibile. Esattamente come i gestori delle pagine Instagram femministe da milioni di follower su Instagram, su questa ideologia hanno fondato un business da centinaia di migliaia di euro. Se non puoi batterli, unisciti a loro. Spero prima o poi che esploda questa bolla, un po' come quella del 2008, ma ci vorranno anni a mio parere. Oggi qualsiasi idea, per quanto stupida, se viene associata la parola femminismo, viene considerata progressista. E niente dai, questo è tutto per questa storia. Fatemi sapere nei commenti quello che ne pensate voi. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e seguitemi anche su Instagram. Il link è in descrizione. E niente dai, direi che ci becchiamo nel prossimo video.